Musica Nuovo terremoto in consiglio regionale dopo che ieri la Guardia di Finanza di Bari ha arrestato in flagranza di reato Antonio Mario Lerario, dirigente della regione Puglia, al comando della protezione civile regionale. Gravissime se dovessero essere confermate le accuse per il dirigente, corruzione. Lerario è stato fermato dopo aver ricevuto in una busta la somma di 10.000 euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell'iglizia. L'arresto in carcere è avvenuto nel corso di alcune indagini relative all'attività di Lerario come dirigente della protezione civile regionale. A quanto si apprende, l'imprenditore che avrebbe consegnato al dirigente la busta con denaro ritenuto una tangente, ha in corso, fa sapere la procura, contratti di appalto per la somma di oltre 2 milioni di euro con la protezione civile regionale. Dopo l'arresto in flagranza, la procura chiederà la convaglia della misura cautelare e l'indagato comparirà dinanzi al GIP per essere interrogato. Intanto, ieri sera, subito dopo la notizia dell'arresto di Lerario, la giunta regionale si è riunita in seduta straordinaria durante la pausa dei lavori consigliari per revocare gli incarichi assegnati al dirigente arrestato e deliberare il conferimento ad interim della sezione protezione civile e della sezione strategie e governo dell'offerta a Nicola Lopane, già dirigente regionale della sezione raccordo e controlli al sistema regionale. Resta ai domiciliari l'ex direttore generale del Policlinico Rinuiti di Foggia, Vitangelo Dattoli, coinvolto con altre 5 persone, in un'inchiesta della procura della Guardia di Finanza su una presunta manipolazione di due gare d'appalto nella sanità. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Foggia, Armando Dello Iacovo, che ha rigettato anche la richiesta di scarcerazione domiciliare del dirigente del nostro comio foggiano Costantino Quartucce e del medico in pensione Antonio Apicella. Dopo 10 giorni di arresti domiciliari, invece, tornano liberi Roberto Pucillo, amministratore delegato di Alidaunia, la società di Elitrasporto, la figlia Valentina, procuratore legale della stessa società e il dirigente dell'asro di Foggia, Rita Acquaviva. Secondo gli inquirendi, ci sarebbe stata una presunta manipolazione di due gare d'appalto. Quella per l'affidamento del servizio di aerisoccorso ordinario per un impegno di spesa di 36,6 milioni di euro per il primo quinquennio e 29,8 milioni per l'eventuale proroga contrattuale opzionale. L'altra gara riguarderebbe l'affidamento del servizio di trasporto aereo di organi ed equip medica per attività di prelievo e trapianti organi per un impegno di spesa pari a oltre 2,6 milioni di euro per il primo quadriennio estendibile in caso di proroga fino a oltre 4,6 milioni di euro. L'accusa ipotizza che si avrebbero agito per favorire l'idaunia anche se alla fine la società non si è giudicata ai bandi che invece sono stati assegnati ad un'altra ditta, l'Avionord. I legali dei tre indagati rimasti domiciliari Dattoli, Quartuccia e Apicella hanno annunciato di aver presentato ricorso al Tribunale del Riesame. L'accordo di programma non inficerà in alcun modo la procedura di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Foggia. Regione Puglia, Amministrazione Comunale ed Arca Capitanata però siglano un patto con l'obiettivo di individuare soluzioni che consentano il superamento della situazione emergenziale nel campo abitativo. L'intesa muove innanzitutto dalla situazione dei residenti dell'ex distretto militare e della terza traversa di via Sansevero dove i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili gli immobili ed il Comune ha successivamente emanato una specifica ordinanza di sgombero senza che tuttavia nel frattempo siano state individuate soluzioni alternative per i 24 nuclei familiari coinvolti in tutto 78 persone di cui 21 minori. Nello specifico l'intesa prevede lavori di riqualificazione ristrutturazione e adeguamento delle ex scuole Lepore e Moscati da destinare ad alloggi temporanei per i soggetti occupanti gli immobili da sgomberare lavori di riqualificazione per Parco San Felice da destinare a spazio sociale e presidio della legalità ed infine la realizzazione di azioni di antimafia sociale tese alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in particolare tra i giovani per stimolare la cultura della legalità attraverso attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione dell'identità dei luoghi e delle comunità. Con l'accordo la regione si impegna a finanziare i lavori di riqualificazione di Parco San Felice e le azioni di antimafia sociale fornendola dove necessario il supporto nelle attività di programmazione oltre ad autorizzare Arca Capitanata all'utilizzo delle risorse residue della delibera di giunta regionale del 30 aprile 2020 al fine di consentire i lavori di riqualificazione ristrutturazione e adeguamento dell'ex scuola Lepore compresi i costi per il cambio di destinazione urbanistica assegnando le unità immobiliari ricavate alla locazione con canoni previsti per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle famiglie dell'ex distretto e di via Sansevero. Al comune di Foggia invece spetterà il compito di eseguire i lavori di riqualificazione ristrutturazione e adeguamento dell'ex scuola Moscati risolvere il contratto di locazione dell'immobile dell'ex scuola Lepore riconsegnandolo ad Arca Capitanata a questo si aggiungerà il compito di individuare i soggetti e i nuclei familiari occupanti gli immobili dell'ex distretto militare e di via Sansevero ai quali assegnare gli alloggi oggetto di riqualificazione. L'amministrazione comunale infine si impegnerà a progettare e realizzare le azioni di antimafia sociale predisporre una proposta progettuale di riqualificazione di Parco San Felice compresa la realizzazione dei lavori e provvedere agli adeguamenti urbanistici degli immobili riqualificati rispetto alla nuova destinazione d'uso. Impegni importanti che dovranno essere realizzati dalle parti entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di programma. ATAF, AMGAS, AMIU, AMService A Foggia, la commissione straordinaria mette ordine nelle società partecipate in particolare attraverso la formulazione di criteri e regole chiare in materia di personale con un faro puntato soprattutto sulla spesa sostenuta e sull'ipotesi di nuove assunzioni. Indirizzi che i commissari hanno messo nero su bianco attraverso una delibera che passa in rassegna lo stato dell'arte e la situazione di ciascuna azienda. Le quattro società sono invitate dalla commissione qualora non lo abbiano fatto ad adottare o revisionare un regolamento per il reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato che preveda una predeterminazione dei requisiti e dei titoli di studio richiesti per l'accesso in relazione ai profili da ricoprire sottolineando l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale delle società specificando che i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di legge saranno da considerarsi nulli. Per i commissari è inoltre necessario provvedere ad un'azione di contenimento della spesa per il personale con il divieto di procedere ad assunzioni di qualsivoglia tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi ed in subordine far fronte alle necessità di reintegro o di nuovi apporti di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e dei servizi in affidamento ricorrendo ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2022-2024 solo nella misura corrispondente ad una spesa non superiore al 75% di quella per il personale venuto meno nell'anno precedente. Netto anche l'invito a ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato interinale o con altre forme temporanee soltanto in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o all'implementazione di servizi non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo e valutando la possibilità di assunzioni non unicamente sulla base del probabile aumento dell'attività svolta e del fatturato ma tenendo in debito conto il personale già in servizio nel caso lo stesso possa essere sufficiente. Giro di vite anche nella valutazione e nella determinazione dei riconoscimenti che dovranno rispettare i criteri oggettivi di selettività e merito rispetto alle prestazioni effettivamente rese da ogni singolo lavoratore assicurando che la misura massima del valore distribuito sia contenuta nel 50% dell'ammontare del risultato di esercizio di competenza con la distribuzione delle premialità che dovrà essere regolamentata dalle società per evitare discrezionalità quanto agli incarichi professionali e di collaborazione infine la commissione impone l'accertamento della ricorrenza degli stessi presupposti che sono validi per gli enti pubblici a partire dalla oggettiva impossibilità di utilizzare risorse interne Sarà una vigilia di Natale diversa quella che si appresta a vivere Foggia sì è vero non c'è il lockdown come lo scorso anno ma ci sono comunque le restrizioni legate all'uso della mascherina in centro e al contenimento della movida vediamo cosa si aspettano di trovare sotto l'albero i foggiani quest'anno che vigilia di Natale sarà a Foggia? beh spero una vigilia serena per tutti abbiamo vissuto un periodo un po' particolare questo covid che ci ha ormai è entrato nelle case di tutti spero sia una vigilia serena una santa vigilia serena soprattutto per tutte le famiglie per tutti i foggiani sei d'accordo con le restrizioni anche qui in centro sull'uso della mascherina sul contenimento delle misure? assolutamente assolutamente purtroppo non dobbiamo diventicarci che questa è stata una pandemia abbiamo purtroppo perso dei cari più che meno e dobbiamo continuare su questa strada dobbiamo lottare continuare stringere ancora i denti per un po' poi tornerà tutto nella normalità sicuramente non come quelle degli anni passati probabilmente ci sarà più calma magari anche una possibilità per provare a godersela in maniera diversa possiamo solo prestare la massima attenzione sotto l'albero cosa ci aspettiamo quest'anno? beh sotto l'albero ci aspettiamo sicuramente un miglioramento di tutte le condizioni economiche ma soprattutto di salute quindi ci aspettiamo che il nuovo anno ci porti un miglioramento un miglioramento che dipende molto da noi dalla vaccinazione e da quello che faremo dai nostri comportamenti che sono la cosa principale quindi io sotto l'albero direi a tutti di portare un po' più di umanità perché la vaccinazione non è soltanto una nostra tutela ma una tutela di tutti speriamo un Natale con tanta gente le restrizioni con le mascherine siete d'accordo? assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo speriamo che non approvano il tampone perché non mi pare giusto perché si è vaccinato speriamo sotto l'albero che si aspetta? beh niente di nuovo quest'anno ormai se sono un po' troppi anni che le cose vanno avanti allo stesso modo io penso che sia un Natale come gli altri anni molto limitato purtroppo però si deve fare è una situazione particolare quindi speriamo finisca presto anche se lo diciamo da troppi anni e non sta finendo visto le limitazioni che hanno imposto questa purtroppo deve andare così se c'è un'emergenza sanitaria in corso non si può fare altrimenti una vigilia senza la movita degli altri anni che Natale sarà per i commercianti beh sicuramente sarà una vigilia diversa dalle altre molto probabilmente avremo anche dei cali di fatturati ma questo non ci non ci fa stare giù di morale comunque ci siamo preparati al 100% per affrontare questa vigilia e speriamo in meglio poi gli auguri di Natale certo un auguri a tutti i miei clienti a tutta tutta Foggia e che sia un anno diverso sicuramente da questo che abbiamo già passato Carmela Fanizzi storica presidente dell'associazione ABC una serata di festa un Natale importante al termine di un bel corso di fotografia tenuto dai ragazzi beh sì era devoroso da parte mia nei confronti dei ragazzi anche perché ho visto delle cose che mi dopo 50 anni mi sono rabbrividita come ho scoperto ancora di più la loro la loro la loro grandezza se noi diamo importanza e non li sottovalutiamo perché loro intellettivamente sono superiore alla norma e quindi è stato un evento proprio di soddisfazione da parte mia dopo tanti anni e da parte anche i ragazzi che ho fatto un regalo a loro così quando il signore io sono molto illuminata dal signore quello è il mio custode veramente e che mi mi guida e seguo questo percorso io mi auguro solo i miei anni ci sono però la voglia di dare ancora ecco c'è mi auguro che trovi dei volontari dei volontari si capiscano bene di fronte che gioielli abbiamo noi noi abbiamo dei gioielli delle persone vere non a caso io sto da 50 anni dedicato a loro perché ho scoperto che noi abbiamo di fronte la verità la sincerità la lealtà la bontà l'affetto ecco da chi magari li sottovaluta ecco questo è il mio poi come dono quest'anno da due anni io lo sapevo siamo un'associazione nazionale cioè non abbiamo solo dovuto cambiare da ABC a bambini Foggia siamo ABC Puglia perché in Puglia dell'ABC siamo è solo questa e sono 12 città che sta questa associazione ma quella che va alla grande siamo noi perché giornalmente tutti i giorni dalle 9 la mattina all'una e dalle 17 alle 20 li teniamo con noi per farli felici per alleggerire le famiglie lei da 50 anni nel mondo del sociale è un anno particolare questo nel 2022 che anno sarà per la BC ma per me sarà sempre meglio voglio essere ottimista sinceramente anche perché le barriere io le voglio abbattere noi siamo una forza siamo una forza proprio non io io con loro perché loro sono i miei volontari adesso date che gli anni passano e quindi lo auguro a tutti ecco questo l'augurio questo evento stasera è proprio per questo tenendo le dovute sicurezze ma che loro sanno sanno bene perché se noi parliamo se noi li convolgiamo loro sono uguali a noi meglio di noi ecco questo è il mio motto Presidente ormai è Natale e la Croce Rossa il Comitato di Foggia ha pensato di fare un regalo anche agli amici a quattro zampe sì partita così di getto questa iniziativa è Natale per tutti e il Comitato di Foggia appunto ha voluto pensare anche ai nostri amici pelosetti ognuno di noi ha portato qualcosa una scatoletta dei croccantini e chi vuole può anche contribuire con una donazione in denaro che metteremo in questa scatolina e la raccolta di genere alimentari e di donazioni in denaro per il canile di Foggia a largo raggio andrà avanti fino al 6 gennaio un regalo gradito per i cani e i gatti del canile di Foggia sì assolutamente sì infatti noi ringraziamo di cuore tutti i volontari della Croce Rossa che ci hanno supportato e aiutato e ricordiamo che noi non gestiamo soltanto i cani del canile comunale ma anche i cani sul territorio e quindi ogni singolo aiuto è gradito da croccantini umido pipette e pettorine quindi grazie davvero di cuore per aver avuto il pensiero per i nostri cani grazie a tutti Grazie a tutti.